La provincia fin da ieri pomeriggio, ma in realtà erano già allertati l'ufficio della viabilità, ma nel primissimo pomeriggio abbiamo fatto come provincia diversi interventi sulle nostre strade di competenza provinciale. Sono stati diversi i comuni sui quali abbiamo fatto interventi fino a questa mattina e stanno ancora continuando i lavori proprio per dare modo ai cittadini di non avere disagi lungo le nostre strade provinciali con spazzaneve, spargi sale e tutto quello che è necessario per garantire un servizio ai cittadini.